buonasera a tutti ragazzi sapete chi ha trovato finalmente lavoro gli scoppiati abbiamo trovato un lavoro online e quindi è arrivato il momento di fare anche un po di plata e non solo spendere finalmente e niente così potrò finalmente regalare una bella dentura d'oro a mia nonna così non mi ramperà più le palle perché non porto mai il pane a casa ma a proposito di oro come avevamo detto l'altra volta dovevamo parlare di eldorado la città d'oro perduta che non è mai stata trovata e c'è un motivo perché non è mai stata trovata ora ne parleremo ed è una storia veramente incredibile ma ciò che la rende più incredibile in realtà che è una storia vera io ora sapete tutti che quando il conquistador quando scoprirono all'america e la invasero e ciò che ciò che veramente distrusse la popolazione locale oltre alle guerre furono le malattie come il vaiolo e altre influenze di cui la popolazione nativa non era immune fondamentalmente non avevano anticorpi per questo vent'anni dopo che i conquistadori si arrivarono in sud america ci fu un esploratore spagnolo il suo nome era francisco de aureliana e fu il primo ad attraversare completamente sud america da costa a costa e lo fece via fiume come abbiamo fatto noi attraversando il rio dell'amazzoni e partì da quito in ecuador e arrivò all'estuario fino in brasile che poi sfocia nell'oceano atlantico ci impiegò circa due anni precisamente 18 18 mesi e con con sé aveva un diario un diario di bordo e leggendo il diario di bordo di francesco de aureliana lui diceva di aver durante il suo viaggio di aver visto dentro la foresta città grandissime ricche dense di popolazione che variavano da 10.000 ai 20.000 abitanti addirittura diceva che qualche città da dal punto di inizio al punto finale erano anche 20 chilometri e più ti addentravi nella giungla più diventavano sofisticate e ricche e allora ritorno ritorno in spagna e raccontò di queste cose 100 200 anni dopo quando gli spagnoli tornarono tornarono in sud america non potevano trovare queste città e quindi pensarono che francesco de aureliana si fosse inventato tutto ciò che successe però in realtà fu che quando i conquistadori portavano il vaiolo e le altre influenze all'epoca non c'era lappi immuni come come da noi e quindi non i nativi non sapevano di essere contagiati no ciò che successe è che appunto il vaiolo sterminò completamente la popolazione locale morirono circa il 99 per cento delle persone e per quanto riguarda le strutture furono completamente mangiate dalla giungla perché 200 anni in amazzonia 100 anni in amazzonia pensate poi se lasci qualcosa per un po di tempo in natura senza che l'uomo lo tocchi dopo un tot di tempo non li trovi più perché la natura mangia mangia ciò che trova praticamente in amazzonia succede ancora più velocemente quindi non riusciranno a trovare queste strutture però fortunatamente o anche sfortunatamente ora che grazie agli arrivamenti intensivi che avvengono in amazzonia con la deforestazione per coltivare la soia per dare da mangiare agli animali e stanno venendo fuori tutte queste strutture piano piano e ne stanno trovando sempre sempre di più tra l'altro un gruppo di ricercatori ha fatto una scansione dall'alto con dei droni con una tecnologia nuova che si chiama lidar li faremo anche poi vedere e stanno veramente scoprendo strutture e città megalitiche pattern di irrigazione attraverso i dislivelli del terreno e questo lo stanno trovando ovunque nella foresta amazzonica anche sotto i mari nel resto del mondo nel resto del mondo si adesso principalmente parliamo di eldorado in amazzonia si 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 e quindi effettivamente queste città esistevano come di cui parlava francisco dell'origliana e però i ricercatori si chiesero ma com'è possibile che che ci furono queste città e potevano essere abitate essere abitate da 10.000 20.000 abitanti perché a sostenersi ma sostenersi esatto e fare agricoltura perché effettivamente la cosa stupida degli elementi intensivi e in una foresta amazzonica è il fatto che la foresta amazzonica se una volta coltivata dopo un po di anni si naridisce perché uno dei suoli meno fertili del mondo il trucco è stato che questi nativi si erano inventati un suolo e questo solo aveva un nome si chiamava terra preta ed è un suolo uno dei suoli più fertile al mondo è ricca di microrganismi ciò che la rende unica è che oltre al fatto che i microrganismi vivono per più a lungo rispetto ad altri terreni rigenerando altri microrganismi rigenerando anche il suolo stesso si autogenera col tempo diventa sempre più fertile a più tempo passa più diventa fertile perciò è questo fino a poco tempo fa che si pensasse si pensava che la terra preta fosse antica di 2 3 mila anni però hanno trovato dei 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 baci dei dei pezzi di terra preta in brasile che addirittura sono datate dagli 8.000 ai 9.000 anni e voi pensate queste sono soltanto le ricerche dove l'uomo può arrivare e studiare pensate in mezzo alla foresta dove nessuno dove nessuno può può arrivarci chissà quanto può essere antica la terra preta lì chissà quante strutture ancora non esplorate non trovate si possono possono esserci ma comunque l'uomo quindi lo zampino dell'uomo è in tutta l'amazzonia in tutta l'amazzonia infatti infatti cosa incredibile nuove evidenze sembra che l'amazzonia parte di essa non tutta ma era un giardino botanico è stato è un giardino è un giardino botanico è stato letteralmente fatta in parte dell'uomo perché ciò che tra tutte le piante che ci sono nell'amazzonia una minoranza di esse sono piante da frutta oppure piante di noci come le noci brasiliane e non fanno parte dell'amazzonia si esatto e e seppure essendo una minoranza rispetto all'altra piante queste domino completamente regime vegetale in tutta l'amazzonia e tendenzialmente dove ci sono questi tipi di piante hanno anche trovato rovine di civiltà umane quindi fondamentalmente l'amazzonia era è un giardino creato dall'uomo in passato è incredibile questa cosa pensare che l'uomo cattivo solitamente distrugge tutto invece in passato eravamo capaci anche di creare abbondanza e ricchezza e bando alle ciance bando alle ciance bando alle ciance io adesso noi vi abbiamo dimostrato attraverso questa storiella che fondamentalmente eldorado questa città sono molto più veritiere di veritiere di chan chan del chan chan che ci dicono che sia precolombiano e eldorado per quanto mi riguarda non era nemmeno la città era la terra preta questo solo antropogenico che l'uomo si è riuscito a creare non si sa ancora come ma è incredibile questa cosa e io adesso non voglio che voi crediate tutto quello che diciamo fate le vostre ricerche fate le vostre indagini non dovete pensarla come noi quello che vi posso dire che la fuori ci sono tanti guru che che sembra che vogliono fare il bene dell'umanità ma in realtà non soltanto dei tornaconti personali vi dicono tre cose buone e una sbagliata in modo che la gente si si affezioni a quelle tre cose buone inizia a prendere considerazione anche quella quella sbagliata questo è come si si instaurano nuove idee nell'immaginario collettivo noi quello che vogliamo dirvi noi vi racconteremo il nostro pensiero critico il nostro pensiero critico e la nostra verità che è una verità che ci viene dal cuore e io penso che sia l'unica verità importante e come diceva un certo gesù di nazareth la verità rende liberi perciò se lo diceva anche il 66 del sensei e noi vi salutiamo ai prossimi aggiornamenti ciao